Salve, salve da Marco Calabro per conto di Allianza Immobilieri. Siamo qua oggi per vedere, stiamo vedendo il catalogo di Saludormi Materassi e siamo qua oggi per vedere il modello Equofoam. Il modello Equofoam è un modello che si caratterizza per un ottimo rapporto qualità-prezzo. È un prodotto con un'altezza complessiva di 24 cm. Il prodotto ha all'interno 4 cm di Memory Marine e successivamente sotto una schiuma poliuretanica di 20 cm. Il prodotto consideriamo che ha questa caratteristica di avere il Memory Marine che è una schiuma memory ad alta traspirabilità, quindi è un aspetto estremamente positivo. Un altro aspetto secondo me da considerare è il fatto che sì è vero che sotto c'è una schiuma poliuretanica, cioè non una schiuma evoluta, una schiuma poliuretanica, però normalmente è un materasso che si utilizza dal lato del Memory Marine, quindi un prodotto assolutamente adeguato. Il prodotto, come dicevamo, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Considerate che questo prodotto, che è il loro prodotto di punta, cioè uno dei prodotti di punta evidentemente per questo argomento del prezzo, quindi un prodotto di punta in termini commerciali, questo prodotto, l'unica cosa che fa l'azienda è che periodicamente, ogni anno lo va rinnovando, cioè va rinnovando l'estetica del prodotto, quindi sappiamo che ha una tendenza in termini stilistici che viene continuamente attualizzata. Stavamo parlando dell'Ecofoam in schiuma poliuretanica. Bene, grazie, grazie sempre per ascoltare i video di Alleanza Mobilieri. Arrivederci al prossimo video.